...che ci fosse una intenzione non seria ma reale della situazione, ma quando sono andato per la prima volta su e dalla signora Maria Straniero, figlia di Michele Straniero, tutore di Nicola Giovanni, Giovanni Battista Straniero, si chiama il nome completo che potete vedere anche sull'atto di nascita, ed ho visto i documenti, le lettere e poi vedrete fuori anche le onorificenze con le medaglie che sembrano coniate oggi, sono tenute in una maniera veramente meticolosa, bellissima, difficile da trovare, perché per esempio per Carli non si è trovata più la taglia d'oro per tante motivazioni, sono rimasto scioccato perché poi leggendo anche le lettere, le prime lettere, ne esce uno spaccato veramente incredibile che dà un effettivo, diciamo, modo di vivere della famiglia, ma non straniero, ma della famiglia tipica barlettana. Vi dico una cosa che sicuramente non è sfuggita a chi ha letto il libro, cioè dopo che scrive tanto e si interessa di tutti e di tutto, anche dell'attendente che viene e dice dagli qualcosa da mangiare perché lui è del gargano e deve tornare indietro quindi non lo trattate in maniera fredda. Fa un po' scritto, se conservate ancora quella rimanenza di Taralli mandatevela. È una cosa particolare che fa pensare al tipo di rapporto che c'era, come ho scordato di portarmi la maglia senza collo, perché quella col collo mi dà fastidio. Possono sembrare delle cose sciocche, ma non sono così, perché un ragazzo che è al fronte pensa sicuramente a quello che sta vivendo, ma non stacca mai la memoria e il ricordo e la vita dalla sua famiglia, dalla sua città e da tutto quello che lui voleva fare, tipo spero di venire presto a Barletta in licenza per farmi qualche bagno. Cioè questo lo scrive dieci giorni prima di morire, perché siamo a maggio e prima a Barletta verso fine maggio-giugno si andava già al mare. Ma questo è solamente il minimo di quello che ho potuto poi raccontare nel libro, perché una parte bellissima è la lettera che hanno già in modo perfetto raccontato sia il professor Milani che il pronipote di Nicola Straniero, cioè la lettera di Suor Maria Pasqualina, bellissima, tenerissima. Ma se voi leggete le altre cartoline e le vedete avanti, ce n'è una che ho messo proprio che è una chicca, nel senso che è una cartolina partita da Barletta dal fratello Michele, c'è una veduta del viale della stazione e dietro dove è scritto l'indirizzo di dove doveva essere recapitata la lettera e tutto cancellato. In molti pensano, dicono ma chi è stato qualche bambino? No, è stata la censura, perché all'epoca non si poteva comunicare dove erano ubicate le forze e quindi la censura l'ha cancellato tutto quanto e l'ha rimandata alla famiglia. Ed ecco perché l'hanno ancora i familiari ed è stata messa anche in mostra. Sono dei particolari che possono sfuggire. Uno leggendo le lettere può focalizzare l'attenzione su quelle che possono essere le lettere più articolate dal punto di vista dei concetti espressi. Ma sono queste che fanno, si dice tante volte, è un puzzle. Senza quelle piccole cartoline o lettere noi non possiamo capire come si viveva a Barletta all'epoca e come era difficile vivere lì perché straniero vince un concorso al Comune ed è primo a fine giugno nel anno 1915 e vince un concorso per una qualifica che non esiste più oggi, cioè di amanuenze presso la segreteria generale del Comune di Barletta. Un concorso al Comune di Barletta nel 1915 voleva dire andare ad occupare un posto nella medio alta borghesia locale e stare tranquillo. Siamo giugno del 1515. A dicembre del 15 straniero fa domanda e parte per l'Accademia Militare di Modena. Sono passati nemmeno sei mesi. Straniero sente il dovere fortissimo di partecipare alla guerra appena scoppiata. Siamo giugno, lui vince il concorso. Il 24 maggio era entrato in guerra l'Italia. Lui parte senza nessuna esitazione. parte, arriva a Roma, Roma-Modena. Modena a gennaio svolge tre mesi di una istruzione velocissima e viene subito, subito inviato al fronte su Col di Lana, Montesier, cioè in piena zona di operazione. Non in posti che erano abbastanza lontani. Niente, subito in zona di operazione. Leggendo le lettere si vede un passaggio, non graduale, ma repentino, dal sto bene, mi trovo bene, al non vi preoccupate. Il non vi preoccupate era indicativo di una situazione non più ottimale. Era una situazione che già lamentava alcune pecche, tipo siamo costretti a dormire praticamente in bare, perché erano delle, un ricovero fatto in legno dove dormivano in due. Poi subito dopo si riprende, dice no, statevi tranquillo, tanto mangiamo e mangiamo anche la frutta candita. Subito dopo poi dice, ma che tristezza qui, e dice qui c'è solamente neve e c'è solamente divise grigie. Sembrano gli appartenenti alla congrega di San Giuseppe che a Barletta fanno la processione del venerdì santo. E qui scatta il ricordo, la nostalgia. Dice ah, vorrei tanto vedere i barlettani con le pagliette bianche, mentre assistono alla processione del venerdì santo. e anche la sorella, famosa suor Maria Pasqualina, dice ho sentito che lì stai avendo dei dubbi. Dice anche se so bene che, e questo ve lo voglio leggere perché è molto particolare il passaggio, dice, nonostante la tua buona educazione ricevuta, pur tuttavia qualche timore agitava l'animo mio, stante che ai giorni nostri si fa bersaglio alla religione e si cerca di corrompere i cuori giovanili. Sì caro, non arrestarti, ma continua la tua missione. Per scrivere queste cose, suor Maria Pasqualina, che era una persona molto intelligente, doveva aver avuto sentore di qualche cosa che non andava. Questa lettera, come è stato detto, non l'ha mai ricevuta, perché era morto. Perché questa è stata inviata il 21 maggio del 16, cinque giorni dopo che già Straniero era morto. e qui finisce la storia pubblica, militare di Straniero. Ma la storia non finisce qui, perché altri piccoli tasselli del puzzle sono, per esempio, e lo vedrete fuori, una, un foglio di carta stranissimo, tutto stropicciato e rotto, dove Michele Straniero scrive la prima, perché sei giorni dopo che gli hanno comunicato che era morto, la prima edigrafe per il fratello, forse stropicciata, buttata, poi ripresa. Ma non si perde d'animo, subito fa richiesta al comune, perché? E qualcuno lo ha accennato, Floriana pensa. Perché? Straniero era partito ed inviava a casa la sua paga di ufficiale per un solo motivo, a costruire, acquistare un terreno e costruire una tomba per la mamma. Il fratello grande Pasquale, in una lettera che non riceverà mai, perché anche quella mandata dopo che era morto, dice, ma pensa a te, pensa che sei un ragazzo e quando torni quei soldi usali per divertirti? Risposta no, devo fare la tomba a mamma. Su quella scorta Michele, dopo che è morto, fa subito richiesta all'ufficio tecnico del comune, e la conserviamo noi all'archivio di Stato, per ottenere la concessione di suolo al cimitero per costruire un monumentino funebre per Straniero, per la famiglia Straniero e per Nicola Straniero. Il comune non se lo fa dire la seconda volta, delibera di urgenza del consiglio comunale che potete vedere, è concessione gratuita del suolo al Camposanto e costruzione del monumento funebre. Nel giro di sette giorni, di otto giorni, Michele allega anche il disegno del monumento funebre, che viene subito accettato dall'ufficio tecnico e messo subito in esecuzione. Ma l'azione del comune non si ferma lì, paga dopo un anno tutta la manifestazione, la messa, i manifesti, tutto quello che verrà fatto è a spese del comune per ricordare sempre Nicola Straniero. Sapete qual è la particolarità? Cento anni di distanza. È che cento anni fa la famiglia Straniero. Ordina e commissiona un'altra pubblicazione che potete vedere sempre lì esposta e che abbiamo messo nel libro in copia anastatica, idea questa geniale della Rotas. Anche allora il libro è un canto di lode per un ragazzo barlettano morto. Allora per concludere, tutta la storia che è stata raccontata e questa è storia come dico io, storia con la S maiuscola, perché è la storia che viene fatta dalle persone, cioè tutta la storia, è storia con la S maiuscola, tutta questa storia, e mi dovete credere, io ho parlato per la prima volta con la signora Straniero, con Maria Straniero, ho visto una certa ritrosia. Forse perché venendo da un insegnamento del padre che aveva gelosia ma anche un po' di pudore nel conservare quelle lettere difficilmente con gli altri ma anche con i familiari, non si parlava tanto di questo fatto. Poi, ma quando ho detto, ma scusi, non le sembra giusto che dopo cento anni qualcuno incominci a conoscerti a Nicola Straniero? E la risposta della signora, intelligentissima, e me lo permetta, è stata sì, però io la vorrei indirizzare ai ragazzi. Io qui ho detto, alzo le mani, e di fatti stamattina il libro è stato consegnato a tutte le scuole di Barletta. Per questo motivo particolarissimo, io quando faccio visite guidate, così si chiamano quando vengono le scuole per delle mostre, e mi permetto di chiedere, ma voi conoscete Carli? Fino a quando mi dicono i ragazzi no, per me, posso anche capirlo, ma se lo chiedo ai professori e mi dicono che non lo conoscono, ai professori di storia che mi dicono, ma io non do nemmeno torto a loro, perché potrei farvi una sfida e dirvi, vedetevi e leggetevi tutti i libri di testo di storia, scommetto una cifra, quella che volete, se trovate su qualche libro di storia che è la prima medaglia d'oro della grande guerra è stato Giuseppe Carli, libri di storia, stiamo parlando non dell'ultimo soldato che avrebbe anche lui merito di essere citato, non esiste da nessuna parte, i libri di storia locale dovrebbero essere d'obbligo nelle scuole barlettane, di tutti gli ordini e di tutti i gradi, dalle elementari sino al giustizio. Se qualcuno si andasse a studiare le carte non avrebbe più dubbi di niente, più pochi io dico che non sono né uno storico né uno scrittore, io sono un cronista di storia, cioè io riporto quello che è successo cento, duecento, trecento anni fa, non aggiungo niente e tolgo niente, riporto quelli che sono i fatti ed è quello che fa il classico cronista, cioè va sul posto, vede che cosa è successo e lo riporta. Io non ci metto né ideali né le convinzioni politiche, no, io scrivo di storia, non mi interessa altro e questo dovrebbe essere la missione dei libri di storia locale nelle scuole, perché un bambino, scusatevi, nella sede della sezione ci sono i manifesti delle varie rievocazioni della disfida. Io indico perché un ragazzo dice, dice, eh che bello, dice lì ci stanno i cavalieri, e dico ma tu conosci chi è Ettore Fieramosca? No, scuola media, Ettore Fieramosca, Barletta. Per non parlare di persone come stranieri o come Carli? Vi dico l'ultima cosa, proprio perché, proprio perché ha detto il sindaco, voi conoscete persone come Doronzo, Garinella, La Notte, Mennea, Berardelli, Colabrice, ancora La Notte, sapete chi sono questi? Sono Medagli, Dior, Argento e Brozzo della Prima Guerra Mondiale, non li conosce nessuno. Allora, accogliendo la proposta fatta dal sindaco, sarebbe una cosa veramente bella fare delle monografie da dare alle scuole sui personaggi che hanno dato la propria vita per la propria patria. Sapete quanti ne sono stati nella Prima Guerra Mondiale? 760, 760. E quindi spiegata la ragione del libro, è spiegata la mia personale, personale, motivazione, perché ho deciso ed ho accettato subito di scrivere il libro su Nicola Stranillo. Grazie.